musica 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 che bello che bello che bello che è l'asero di natale madonna musica 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 Sì, eh. Però c'è la stessa cosa normale. Non fare così. Teniamo bocca! Bella, bella, bella. Come si rilassate. Eh? Davanti all'albero. Non sei il mio tipo. Dai, un pochino. No, non sei il mio tipo. Non sei il mio tipo. Posso tenerla alla giacca? Un secondo. Posso anche fare di meglio quei due o tre secondi in più? Ah, mi sono. Ho bisogno di fare qualcosa. Ho capito. 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 Ho capito.